Quest'anno tu hai affittato, hai preso questa casetta qui nel villaggio di Babbo Natale in piazzetta Eremitania Padova. È il primo anno che Padova organizza un villaggio di Babbo Natale proprio qui. Come sta andando? Secondo me sta andando molto bene. Questa piazza come primo anno è stata una bellissima iniziativa, curata nei minimi dettagli. Vedete la casetta di Babbo Natale che è una casetta molto molto ricercata dai bambini, c'è la pista del ghiaccio sempre per i bambini e Dolce Sinfundum, la giosta dei cavalli sempre per i bambini. Un passaggio molto molto positivo durante il giorno. Il prezzo della casetta secondo me è molto molto buono per questa zona. Ovvero? Noi pagiamo praticamente solo 50 euro al giorno quindi sarebbero 2000 euro di tutta l'operazione però secondo me è molto poco in questa zona qua. È una zona di forte passaggio, il riscontro noi lo vediamo quotidianamente e purché il tempo ci aiuti. Quindi la prospettiva è comunque di rientrare nei costi con le vendite? Sicuramente sì, dopo bisogna anche da noi fare un attimo il discorso di preparare bene i banchetti. Comunque voglio dire il commercio deve essere sempre curato nei minimi dettagli quindi sicuramente che se hai prodotti buoni e prodotti convenienti sicuramente la gente si ferma e compra per il Natale. Beh durante la settimana un pochino meno, il sabato e la domenica abbastanza bene. Quindi è soddisfatta anche a fronte dei costi che ha dovuto affrontare per avere questo spazio? Beh se era un po' meno il prezzo della casetta era meglio perché comunque i costi ci sono perché ci siamo noi, la casetta, il proprietario, la merce che c'è dentro c'è un bel costo da pagare comunque. Ecco l'anno scorso lei era in piazza Cavour se non sbaglio, ci sono differenze tra questo posto e l'altra ubicazione? Beh le differenze sono sostanziali, qui in quanto siamo tutti raggruppati ed è un piccolo villaggio chiamiamolo così. Mentre di là eravamo nella piazza che aveva degli sbalzi perché c'erano delle panchine, c'erano dei gradini e dei gradinoni, non eravamo coordinati almeno ad essere visibili in un'unica soluzione come si può fare qui, qui è un semicerchio, quindi uno ci arriva e vede un po' tutto. Quindi è soddisfatto? Come posizione decisamente sì, c'è solo da fare un po' di pubblicità magari non lo so perché essendo il primo anno nessuno sapeva di questa iniziativa natalizia, se no le cose vanno così. Ecco quanto pagate per stare qua e a fronte di che servizi? Allora come servizio plateatico abbiamo circa 2000 euro e poi abbiamo il nolo della casetta che quella vale sulle 2,4 e 90 mi pare, 2,5 insomma. E' da farci conoscere per l'articolo che abbiamo altre attività qui in piazza, quindi come noi personalmente, poi le altre come si dice vengono da fuori città e quindi loro è un po' più difficile avere la pubblicità diretta.